Prevale per 2-1 al Borgo Vercelli sulla Rona, non è bastata la gran volontà della squadra del Lago per poter riprendere i due gol che aveva subito nel primo tempo. Al comunale Aldo Viglino, al quindicesimo Borgo Vercelli pericoloso, lancio perfetto dalla sinistra, Caramanda si leva su tutti e di testa neutralizza l'offensiva. Emiliano Rossini guida i suoi dalla tribuna a causa delle sei giornate di squalifica. L'arbitro di Nichelino invece, Giovanni Cito, lascia giocare, sorvola anche su qualche tocco al limite del consentito. Al venticinquesimo Bertolone vicino al vantaggio per i suoi Beltrami, alza sopra la traversa. Al ventisesimo sul conseguente tiro dalla bandierina, Bertolone ancora lui in corna di testa centrale per l'1-0, Borgo Vercelli in vantaggio. Al trentatresimo c'è un improvviso cambio di fronte, i Granata si infiltrano sulla sinistra. Gniemmi tocca in mezzo per l'ex Vergadoro che libero da marcatura e non sbaglia e insacca per il 2-0. Al settimo minuto tre parate consecutive di Mafezzoni su Cherchi e Gningue, a non arrembante vicino al pari. Più vivace infatti l'undice del lago all'inizio del secondo tempo. Al undicesimo c'è un fallo di Gningue, abbastanza cattivo, su Gniemmi a munito l'otto aronese. Al ventiquattresimo Vergadoro si invola centrale, vede Beltrami fuori dai pali invece di fare uno scavetto, calza di potenza fuori bersaglio. Ancora Vergadoro, perfetto il suo controllo di testa ma in tuffo tra l'altro questa volta, veramente una bella azione ma alto sopra la traversa. Al trentaduesimo gran botta del neo entrato Tian per gli ospiti. Para facendo ribalzare a terra due volte la palla il portiere di casa. Il terzo straniero della Rona ci ha provato da molto lontano. Al trentasettesimo Mafezzoni smorza le speranze dei Laquali. Al trentottesimo il gol della squadra del San Carlone è rimandato di un minuto. Di potenza Gningue mette sotto la traversa e centrale. La Rona ci crede e preme fino al quarto minuto di recupero ma il risultato non cambia. Quindi Borgo Riccelli due a Rona uno. La Rona ci crede e preme fino al quarto minuto.